e buona la prima con righezo link e vado avanti seguita da spirit d'asolo e ohan dei greppi righezo link chiude in 15 e mezzo i primi 200 metri a frontal comando il completamento della prima curva davanti a spirit d'asolo poi ohan dei greppi il passaggio ai primi 400 metri in 36 a largo over of cloudlet seguito da tourbillon spin poi anche satanasso fi il passaggio ai primi 600 metri righezo link completa in 45 e 7 si va sulla penultima curva righezo link al comando davanti a spirit d'asolo e ohan dei greppi il treno esterno capeggiato da over of cloudlet su tourbillon spin poi anche satanasso fi nelle retrovie ancora in quarta pariglia esterna via il favorito tuono caff il primo chilometro va via sul piede dell'1 15 e 1 con satanasso che infila all'interno tourbillon righez sempre in vantaggio a 400 metri alla conclusione righez sempre in fuga uno ventotto e nove i mille due di righez sempre in fuga su spirit d'asolo a largo over of cloudlet cerca spazio ohan dei greppi in terza ruota satanasso fi prova a mettersi in moto a centro pista anche tuono caff intanto si è liberato ohan dei greppi righez è stanca si avventa su di lei satanasso poi arriva anche ohan dei greppi insieme a tuono caff intanto satanasso va a vincere per il secondo righez olin in linea con tuono caff fra i due ohan dei greppi 1 e 59 intorno all'1 14 e mezzo dovrebbe essere la media al chilometro forse 1 o 2 decimi in più considerando il lancio da fermo eccola qua righez olin in vantaggio ma è stanca dopo aver guidato dal via a largo finisce a bomba satanasso fi con alessandro olezzo e prende ampiamente la meglio va a vincere chiaramente satanasso davanti a righez che dovrebbe essersi salvata da tuono caff nel mezzo c'è ohan dei greppi che chiude quarto e al quinto posto dovrebbe essere invece over of cloudlet circostante